Noi come squadra ci siamo dati quota 45 punti, credo che sia un obiettivo che possiamo raggiungere perché vista anche l'ultima partita che abbiamo fatto ce la possiamo giocare con tutte le squadre che sia il Pescara, che comunque è una grande squadra, però abbiamo dimostrato sul campo che ce la possiamo giocare anzi a volte abbiamo avuto anche delle occasioni importanti, quindi la nostra quota per noi è quella poi se facciamo di più ben venga, però ci siamo prefissati per quella quota lì, credo che seguiamo tutti la stessa strada nessuno si tira mai indietro, anche se a volte ci sono degli acciacchi fisici, dei problemi, nessuno si è mai tirato indietro quindi credo che questa sia la cosa più importante e l'unione sta facendo la differenza all'interno del spogliatoio No, sicuramente con due risultati positivi alle spalle, quindi siamo molto più sereni, però comunque concentrati perché è uno scontro, mi hai detto se salvezza, ne abbiamo non solo questo, poi ce ne abbiamo altri due quindi no, niente, siamo cari, stiamo lavorando bene, siamo tranquilli e ce la giochiamo a viso aperto come con tutte le altre squadre No, sicuramente non possiamo dire i risultati prima di giocare le partite perché puoi perdere col Pontevedere e vincere la Reggiana nessuno lo sa, però noi andiamo in campo, come ti ho detto, sempre mostrando il nostro gioco non avendo paura dell'avversario, poi li rispettiamo perché è giusto rispettare anche l'avversario però non guardiamo tanto alla squadra, ma a noi e a come affrontarle quindi noi dobbiamo pensare partita per partita, poi quelle che verranno le affronteremo